Ah, mancava solo questo grande vaso per finire il trasloco. Oh Cristoforetti Samantha Not, astronauta italiana! Oh Cristiano Malgioglio del GF VIP! Eh, la madonna Rumma! Dan, ho un problema. Solo uno? Guarda che nei tanti tesoro... No, questa volta è serio. Non riesco più a dirle parolacce. Ogni volta che provo a dirle, vengono censurate o diventano parole innocue. E non capisco perché. Perché sei un Cori... la prima mela! Anche tu... Mannaggia Cristiano Ronaldo! SIO! Ma che cazzuola sta succedendo? Dopo aver affrontato una pandemia mondiale... Un nuovo e misterioso morbo sta colpendo l'umanità. È una notizia sconvolgente. Un misterioso virus sta colpendo il nostro pianeta. L'umanità è stata ripulita da tutte le blasfemie e le imprecazioni. E' inarrestabile. E' inarrestabile. Figlio di Puritano! Testa di casa con rabbia! E continua ad espandersi. Non solo ha censurato le parolacce... Ma anche tutti i riferimenti sessuali! Che minneapolis! E osti che culurgione snota pasta ripiena dalla Sardegna! Fino ad arrivare alla follia. Jacopo, non ho più... Il fagiolo! Ho un pixel! Beh dai... Più grosso di prima... La dura ricerca... Per la verità. Cos'hai trovato? C'è una teoria. Non è un virus. Potrebbe essere... Una figura sovranaturale. Porca pupazzola! Una medium. Lo vedo! E' qui tra noi! Li proverà a salvare. Che cos'è? Un fantasma? No! E' un demone! Ma non esiste una via d'uscita. Oh mio Dio! Che demone è? Belcepù? Belfagor? Lucifer? No! E allora chi è? Che cosa sta succedendo? Non posso dirvelo! E' troppo potente! La prego! Ho paura! Io no! Fatti vedere se hai coraggio! Come... Come ti chiami? Tizzazione! Tizzazione? Tizzazione? In che senso tizzazione? Demonetizzazione! L'incubo di ogni influencer! E se continuate a dire le parolone brutte vi mette il bollino Giano! Piricchini! Tizazione? Nessun Grazie a tutti.